Benvenuti su questo canale. Questa è una breve storia per migliorare il vostro livello di comprensione dell'italiano. Nel primo ascolto ci saranno i sottotitoli, poi il secondo ascolto sarà senza i sottotitoli. Ora ascoltiamo la storia con i sottotitoli. Una delle mie attività preferite è andare al ristorante con mio marito Renato. È sabato sera e Renato e Dio abbiamo deciso di concederci una serata speciale fuori casa. Prima di uscire ci prepariamo con cura. Io scelgo un vestito elegante, mentre Renato indossa una camicia e una giacca. Decidiamo di andare in un accogliente ristorante italiano, famoso per le sue deliziose pizze e pasta. Telefoniamo al ristorante per prenotare un tavolo per due persone. Arriviamo al ristorante e il cameriere ci conduce al nostro tavolo e prendiamo posto con entusiasmo. Dopo averci consegnato il menù, iniziamo a esplorare le opzioni disponibili. Scelgo una pizza margherita, un classico che mi piace molto. Renato, invece, opta per una pasta alle melanzane. Decidiamo di accompagnare la nostra cena con una birra per me e una bottiglia piccola di vino rosso per Renato. Mentre aspettiamo i nostri piatti, osserviamo l'atmosfera intorno a noi. La luce soffusa, la musica leggera e le risate degli altri clienti creano un'atmosfera accogliente. Il cameriere ci porta le bevande e, Renato ed io, solleviamo i bicchieri per brindare a una serata speciale. La birra è fresca e leggera, mentre il vino rosso ha un'aroma avvolgente che promette di accompagnare bene i nostri piatti. Il nostro cibo arriva presto e sembra delizioso. La pizza è calda e fragrante, con il formaggio che si scioglie delicatamente. La pasta di mio marito è ricca di sapore, con le melanzane che si fondono perfettamente con la salsa. Il cameriere, notando che abbiamo finito i primi piatti, ci chiede gentilmente se desideriamo assaggiare un altro primo piatto o se preferiamo passare direttamente ai secondi. Decidiamo di concederci un'altra pietanza e optiamo per un altro primo piatto da condividere. Un delizioso risotto ai frutti di mare. Il profumo di mare si diffonde nell'aria, mentre il cameriere serve il piatto, aggiungendo un tocco di freschezza alla nostra cena. Più tardi il cameriere ci presenta una selezione di dolci. Io scelgo il tiramisù, un dolce classico italiano. La consistenza cremosa e il profumo del caffè si fondono in un'esplosione di dolcezza. Renato, d'altra parte, si delizia con un gelato alla crema e cioccolato. La morbidezza e il contrasto tra il dolce e l'amaro del cioccolato creano un appinamento delizioso. Durante la cena parliamo di varie cose, dai nostri piani per il fine settimana alle piccole gioie della vita quotidiana. Ridiamo e scherziamo e gustiamo ogni boccone. Per concludere la serata ordiniamo due caffè, io senza zucchero e Renato corretto. Il caffè conclude la cena in modo perfetto, lasciandoci soddisfatti. Chiediamo il conto al cameriere. Paghiamo con la nostra carta di credito e usciamo sorridendo dal ristorante, salutando tutto il personale. La nostra serata al ristorante è stata davvero piacevole e, per me e Renato, è stato un bel modo di concludere la settimana. Ora ascoltiamo la storia senza i sottotitoli. Una delle mie attività preferite è andare al ristorante con mio marito Renato. È sabato sera e, Renato e Dio, abbiamo deciso di concederci una serata speciale fuori casa. Prima di uscire, ci prepariamo con cura. Io scelgo un vestito elegante, mentre Renato indossa una camicia e una giacca. Decidiamo di andare in un accogliente ristorante italiano, famoso per le sue deliziose pizze e pasta. Telefoniamo al ristorante per prenotare un tavolo per due persone. Arriviamo al ristorante e il cameriere ci conduce al nostro tavolo e prendiamo posto con entusiasmo. Dopo averci consegnato il menu, iniziamo a esplorare le opzioni disponibili. Scelgo una pizza margherita, un classico che mi piace molto. Renato, invece, opta per una pasta alle melanzane. Decidiamo di accompagnare la nostra cena con una birra per me e una bottiglia piccola di vino rosso per Renato. Mentre aspettiamo i nostri piatti, osserviamo l'atmosfera intorno a noi. La luce soffusa, la musica leggera e le risate degli altri clienti creano un'atmosfera accogliente. Il cameriere ci porta le bevande e, Renato e Dio, solleviamo i bicchieri per brindare a una serata speciale. La birra è fresca e leggera, mentre il vino rosso ha un'aroma avvolgente che promette di accompagnare bene i nostri piatti. Il nostro cibo arriva presto e sembra delizioso. La pizza è calda e fragrante, con il formaggio che si scioglie delicatamente. La pasta di mio marito è ricca di sapore, con le melanzane che si fondono perfettamente con la salsa. Il cameriere, notando che abbiamo finito i primi piatti, ci chiede gentilmente se desideriamo assaggiare un altro primo piatto o se preferiamo passare direttamente ai secondi. Decidiamo di concederci un'altra pietanza e optiamo per un altro primo piatto da condividere. Un delizioso risotto ai frutti di mare. Il profumo di mare si diffonde nell'aria, mentre il cameriere serve il piatto, aggiungendo un tocco di freschezza alla nostra cena. Più tardi il cameriere ci presenta una selezione di dolci. Io scelgo il tiramisù, un dolce classico italiano. La consistenza cremosa e il profumo del caffè si fondono in un'esplosione di dolcezza. Renato, d'altra parte, si delizia con un gelato alla crema e cioccolato. La morbidezza e il contrasto tra il dolce e l'amaro del cioccolato creano un appinamento delizioso. Durante la cena parliamo di varie cose, dai nostri piani per il fine settimana alle piccole gioie della vita quotidiana. Ridiamo e scherziamo e gustiamo ogni boccone. La serata trascorre piacevolmente e il ristorante si riempie di un'allegra vivacità. Per concludere la serata, ordiniamo due caffè. Io senza zucchero e Renato corretto. Il caffè conclude la cena in modo perfetto, lasciandoci soddisfatti. Chiediamo il conto al cameriere. Paghiamo con la nostra carta di credito e usciamo sorridendo dal ristorante, salutando tutto il personale. La nostra serata al ristorante è stata davvero piacevole e, per me e Renato, è stato un bel modo di concludere la settimana. Se ti è piaciuta la storia, metti un mi piace e iscriviti al canale. Grazie per l'ascolto.